Beh, beh ragazzi, io vi dico già che oltre a un'ufficialità si arriva anche quell'altra se dovesse arrivare anche quell'altra io posso soltanto fare così a Cristiano Neggiuntoli ma non per chiedergli l'elemosina, per fargli chapeau tanto tanto di cappello perché è vero che siamo stati bravissimi negli acquisti ma se completiamo il mercato in uscita, perché il mercato non è ancora finito per chi deve cedere, anche per chi deve prendere i parametri zero ma soprattutto per chi deve cedere, ancora mancano giorni, una decina di giorni per i campionati turco, arabo quindi fermi tutti, fermi tutti perché possiamo ancora sperare, possiamo ancora sognare possiamo ancora credere nel miracolo, nella rivoluzione, nel completamento della metamorfosi Juventus e allora entriamo nel dettaglio, entriamo nel dettaglio prima di tutto ovviamente vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un bel mi piace, condividete il video, commentatelo dicendoci la vostra e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti vi ricordo stasera alle ore 21 live con Marcello Chirico mi raccomando eh, Marcello Chirico sarà in live sul canale del Gobbo Toscano sarà un ritorno perché è già stato con noi prima del calciomercato ma tutti voi nuovi che siete venuti sul canale ancora non ce l'avete mai visto quindi preparatevi perché sarà una live molto 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 importante e allora andiamo subito a leggere Juventus ufficiale la sessione al porto di Tiago Gialò la formula è il dettaglio sul mondiale per club adesso ufficiale Tiago Gialò è un nuovo giocatore del porto il difensore centrale lascia la Juventus e si trasferisce in prestito senza opzioni sul futuro acquisto dopo nemmeno otto mesi l'avventura del difensore portoghese in bianconero si interrompe almeno temporaneamente con la maglia della vecchia signora non è mai stato preso in considerazione dall'ex allenatore Massimiliano Allegri per poi essere utilizzato da Montero dopo l'esonero di Allegri con appena 16 minuti nell'ultima partita dello scorso campionato contro il Monza l'ex Milan non è mai stato realmente tenuto in conto da Tiago Motta che pur avendolo avuto a disposizione durante il precampionato ha deciso di puntare tutto sulla coppia di centrali formata da Gatti e Bremer in questo inizio di campionato quindi vedete che anche Tiago Motta non l'ha mai preso in considerazione di nuovo a casa Gialò sarà dunque di nuovo protagonista del campionato lusitano e sarà il sostituto al porto di Pepe ritiratosi nel corso dell'ultima estate il comunicato eccolo qua il sesto rinforzo dell'FC Porto per la stagione 28-25 è Tiago Gialò difensore centrale di 24 anni alto 1,90 m che arriva in prestito dalla Juventus l'accordo che non comporta costi aggiuntivi per il club portoghese è valido fino alla fine della stagione e include anche la partecipazione al mondiale per club Gialò indosserà la maglia numero 3 del Porto ora io la partecipazione non comporta costi aggiuntivi per il club portoghese vi dirò la verità non so cosa voglia dire la cosa un po' mi preoccupa come se fondamentalmente anche lo stipendio dovesse pagare la Juve io non credo se no è allora di che si parla però credo che lo stipendio lo pagherà il Porto in parte lo paga la Juventus e non comporta costi accessori tipo dover dare qualcosa proprio per il prestito il prestito è gratuito un prestito secco pagando solo una parte dello stipendio insomma diciamo non è proprio un affarone ma tutto ci sta perché almeno il giocatore viene preso in considerazione gioca e chissà che il prossimo anno poi lo puoi piazzare da qualche altra parte lo puoi vendere direttamente al Porto dopodiché però dobbiamo andare a leggere quello che sta succedendo quindi Jalò ufficiale al Porto ma come si legge il mercato non è finito botto Juve attenzione perché durante gli ultimi giorni di agosto la Juventus non è riuscita a piazzare tre esuberi Arthur, Jalò e Kostic salvo poi ovviamente riuscire a trovare l'accordo con il Porto per la cessione in prestito del difensore portoghese quindi non ci sarà un reintegro in rosa anche per Arthur che attende di cambiare area al momento i mercati ancora aperti sono quelli di Turchia e Arabia Saudita con diversi club che hanno già fatto dei sondaggi con la Juventus per portarli via da Torino nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità rilevanti in tal senso con Arthur e in particolare che potrebbe finire al Fenerbace di Murigno interessato anche a Costi attenzione perché se Murigno ci fa il regalo se Murigno fa come commisso che ci dà Nico Gonzalez e ci prende Moise Ken se Murigno fa il numero cioè veramente eh ragazzi allora siamo al clamoroso potrebbe essere qualcosa di fantastico per la Juventus perché in questo momento vai a piazzare gli ultimi esuberi che ti sono rimasti ovvero già lui è andato via c'era Arthur e Kostic fondamentalmente due possono anche rimanere per dire cioè non è che è un fallimento se due rimangono ma se riesci a piazzare anche questi due che loro sanno che non ritoccheranno il pallone per tutto l'anno quindi non credo che abbiano tutta questa voglia di rimanere lì fermi anche perché non si tratta di 42 anni non sono giovanissimi ma sicuramente hanno ancora qualche anno da dare ok io credo che l'opzione migliore sia quella di decidersi di andare altrove perché alla Juventus ripeto hanno le idee chiare hanno messo in chiaro le cose se rimanete qua non giocate e neanche venite in panchina andate in tribuna non siete messi in nessuna lista di convocazioni Serie A Champions League e quant'altro quindi cosa stanno a fare? si allenano in orari diversi sì l'unica cosa da dire è cosa stanno a fare? stanno a fare per i soldi stanno lì per i soldi ma alla carriera qualcuno ci pensa? io credo sarebbe anche il caso di pensare alla propria carriera visto che non sono neanche giocatori che sono esplosi alla Juventus erano due come dire due giocatori dovevano essere fantastici per la Juventus soprattutto Arthur pagato a peso d'oro in scambio con Pjanic vabbè due plus Valencia tutte e due fondamentalmente non uscì nessun euro dalle casse della Juventus ma l'ingaggio era importante Kostic non fu pagato tantissimo ma non era più giovanissimo già quando arrivò alla Juve ma era il giocatore migliore dell'Europa League dell'anno in cui lo compra la Juventus quando vinse l'Europa League con l'Eintracht di Francoforte quindi parliamo di giocatori che in prospettiva erano dovevano essere tanta roba e invece nessuno dei due ha inciso nessuno anche se tanti raccontano di un Kostic grandissimo si grandissimo spara palloni in mezzo al campo di cui uno dei 50 palloni buttati dentro andava sulla testa o sui piedi del giocatore con un compagno di squadra e poteva provare a segnare quindi tante azioni buttate via perché se invece di Kostic ci fosse stato qualcun altro tutta la molle di offensività che c'era da quel lato lì dal lato sinistro della Juventus si poteva arrivare sicuramente a fare qualcosa di più ma detto questo questo è stato ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di queste cessioni imminenti probabili Giallo è già andato al porto ufficiale mancano Kostic e Artur ci sono spiragli Murigno e il Fenerbahce possono fare il miracolo per la Juventus ditemi se secondo voi è una cosa fattibile ditemi anche se siete d'accordo o se gli dareste un'altra chance o se giustamente pensate come la Juventus che sia giusto tenerli in tribuna io penso sia giusto tenerli in tribuna ovviamente se non vanno via ma detto questo iscrivetevi al canale like commento condivisione attivazione della campanella mi raccomando fino alla fine Forza Juve fino alla fine Gobo Toscano perché il Gobo Toscano siete tutti voi stasera ore 21 21 stavo per dire 22 e 30 ma stasera no si ricomincia con le live un po' più early ok perché perché comincia il lavoro è settembre cominciano le giornate un po' più pesanti comincia il tempo brutto ieri è piovuto allora cerchiamo di rallegrarci un po' sull'inizio della serata quindi alle 21 saremo in live tutti pronti mi raccomando occhi puntati dito sulla campanellina almeno vi arriva anche la notifica fra poco imposteremo anche la live e quindi ci vediamo stasera e poi ci vediamo nel pomeriggio o in tarda mattinata vediamo per un altro contenuto video ragazzi vi mando un abbraccio un saluto dal Gobo Toscano ciao a tutti grazie a tutti